Bene, ciao a tutti, vediamo in questo video 15 cose da fare quando lei non chiama o non risponde. Prima di affrontare il tema iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo, veniamo al tema, d'altra parte però puoi anche abbonarti al canale, puoi anche fare delle donazioni, e puoi anche mettere un like se ti piace, tanto è gratis, e condividere questo video con i tuoi amici, se pensi che possa essere utile. Allora, quindi, ma veniamo al tema 15 cose da fare quando lei non chiama o non risponde. Allora, intanto tieni presente che succede a tutti, non devi considerarti sfigato. Succede a tutti gli uomini di trovare un mignottone, diciamo così, che non ti risponde, che non ti chiama, maleducata, caffrono, puttano nella corsa, diciamo così, perché le donne che non te la danno sono tutte mignotte, figlie di mignotta anche talvolta. Allora, non porti domande del perché ha smesso, non ti risponde, non state a fare paranoia, perché tanto saranno soltanto proiezioni, saranno soltanto, come dire, delle cose che tu pensi, che hanno detto che siano vere, hanno detto che siano reali, quindi non devi dare l'energia. Mai dare l'energia a un zoccolone, diciamo così. Quindi smettila, conserva il tuo potere personale. Ripetiti, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Fottitene, assolutamente non devi prendere in considerazione questa cosa qua. Non saltare delle conclusioni, questa è un'altra cosa sbagliata. Concentrati su qualcosa d'altro. Intanto tieni presente che più su più cose ti concentri, più ti dai emozioni, più proverai un distacco verso questa persona. Anzi, se devi proprio pensarla, pensa in modo, utilizzando dei pensieri, tra virgolette, espresse al positivo, ma negativi. È una troia, è una mignotta, io mi merito di meglio. Tutti questi pensieri puoi svilupparli tranquillamente. Perché? Noi abbiamo due energie fondamentali che sono l'energia Eros e l'energia Thanatos. L'energia Eros serve per innamorarsi e non dobbiamo usarla. E quando manifestiamo i pensieri, uh che bello. Invece l'energia Thanatos, che è l'energia di morte, è quella che porta al decoinvolgimento. E con l'energia Thanatos noi possiamo utilizzare, diciamo, questi pensieri per distaccarci. E poi, ovviamente, devi smetterla di incolpare te stesso, perché tu non hai nessuna colpe. Non è che abbiamo colpe se dall'altra parte non ci cercano. Smettila di essere paranoico, di iniziare a pensare che tutti ce l'hanno con te, che l'universo ce l'ha con te, che il mondo ce l'ha con te, che cazzi e mazzi ce l'hanno con te. Smetti, elimina questi pensieri che non servono veramente a niente. Poi smetti di chiamarla, smetti di messaggiare e acquisisci un mindset forte, un mindset potente. Cosa vuol dire un mindset potente? Vuol dire che deve avere un atteggiamento mentale da maschio. Le donne sono attratti dai maschi, non sono attratte da uomini di basso valore. Quindi devi dimostrare veramente di essere un uomo di alto valore. E quindi creati, intanto migliora te stesso più che puoi, creati un look più accattivante, più maschile. Qualche accessorio, un po' di peacocking non guasta mai. Qualche accessorio maschile che non guasta è molto importante averlo. È molto importante, diciamo, mantenere una forza interiore, mantenere un'energia interiore. Sono tutte cose fondamentali che ti fanno essere la miglior versione di te stesso, ti fanno essere una persona di valore, ti fanno essere una persona di qualità. Questo posso garantirti che è fondamentale. Quindi ricreati anche un profilo social più intrigante, più interessante, perché oggi le comunicazioni avvengono prevalentemente tramite i social. Quindi è lì che puoi agganciare persone, è lì che puoi conquistare persone nuove, sedurre persone nuove, far innamorare persone nuove. Questi sono tutti i punti importanti che ti suggerisco di utilizzare perché ti faranno, diciamo, essere una persona migliore, ti faranno essere una persona in generale che sa attraere le donne. Perché le donne sono attratte dagli uomini che attraggono altre donne, perché questo è un po' il principio del maschio alto. Poi mantieni alti i tuoi standard, soprattutto diventa irriverente. Le donne non apprezzano gli uomini cagnolino, disfruttano soltanto le donne, non apprezzano i cavalieri serventi, quelli che le sbavano dietro. No, tutt'altro, aspettano quelli, asprezzano e si innamorano di quelli che se ne fottono. Si innamorano della canaglia, si innamorano del bad boy, si innamorano di quello che la considera una merda, di quello che la considera meno che niente, di quello che non le dà assolutamente niente. Quindi mantieni alti i tuoi standard, rispetta, come dire, i tuoi valori, non permettere mai, mai, fai vedere che sei un uomo di qualità, un uomo di valore e mettila nel dimenticatoio. Devi completamente metterla nel dimenticatoio, fottertene e iniziare a frequentare altre persone, altre situazioni. situazioni, impara a diventare un seduttore, hai un sacco di occasioni per conoscere un sacco di donne, quindi inizia a conoscerle, questo ti servirà come allenamento. Puoi conoscerle anche al supermercato, puoi conoscerle frequentando degli ambienti, degli ambienti diversi, puoi conoscerle online. Ci sono, l'importante è che lo vedi come un allenamento, vedi il fatto di conoscere donne come se fosse una distrazione, per darti emozione, il tuo obiettivo deve essere quello di conoscere donne, e puoi conoscerne un casino, veramente tante. Poi inizierai a scegliere, perché tu devi porti nella situazione di quello che sceglie, non di quello che, come dire, subisce, che insegue, che implora, eccetera, eccetera. Devi imparare a rispettare te stesso, fondamentalmente, imparare ad amare te stesso. Questi suggerimenti, se fai queste 15 cose, vedrai che lei si pentirà, si pentirà, avrà rimorsi di non averti risposto, non averti chiamato, avrà rimorsi per rimpianti, avrà pentimenti, rammarichi per rimorso per rimpianti, e posso garantirti che prima o poi muoverà il culo e si farà sentire, ti chiamerà, ti cercherà, cercherà tutte le scuse. Questo te lo posso garantire, perché accade, accade sempre naturalmente. Quindi segui queste indicazioni, comportati del maschio alfa, e vedrai che attirerai tutte le donne che ti interessano. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, sono Tremasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella e metti un like se il video ti è piaciuto, fai donazione al canale e ti puoi anche abbonare al canale, per non perderti tutte le esclusività legate a questo canale. Bene, ciao a tutti e al prossimo video. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo.